C'è una banca che da 100 anni promuove lo sviluppo della comunità locale. Una banca legata al territorio, alle piccole imprese, agli artigiani e alle famiglie. Capace di ascoltare e offrire le soluzioni migliori a chi, come te, cerca una banca differente, fatta di persone al servizio delle persone. C'è una banca che cresce con te. È Banca Cremonese, la tua banca. Grazie a tutti.